la ministra della pubblica istruzione Lucia Azzolina non ha copiato la sua tesi di laurea ed ora ella chiede le scuse da parte di quei giornalisti che hanno scritto che lei la tesi di laurea l'ha copiata e beh la questione del copiato è una cosa seria è una cosa molto seria ci vogliono dei processi i processi di condanna come è successo al grande scrittore Roberto Saviano Roberto Saviano è stato condannato in tutti e tre i gradi di giudizio per aver copiato è stato proprio in tutti e tre i gradi di giudizio della magistratura italiana ma nessun magistrato ha condannato la bella ministra della pubblica istruzione Lucia Azzolina per aver copiato sì, tanti giornali tanti giornalisti hanno scagliato il sasso hanno scagliato il sasso ma ancora nessuno ha dimostrato che Lucia Azzolina ha copiato per cui siccome la bella ministra della pubblica istruzione dice che deve aver copiato ora pretendere scuse pretendere scuse cioè come dire voi giornalisti che mi avete accusato di aver copiato dovete portare la questione in tribunale ci deve essere una sentenza del tribunale che stabilisce che io ho copiato e se non c'è una sentenza del tribunale magari in ultimo grado primo, secondo e terzo grado voi vi dovete scusare perché avete ferito la mia dignità sì, è capitato già a Roberto Saviano è capitato di essere condannato in tutti e tre i gradi di giudizio per aver copiato il cerebellimo romanzo Gomorra mi pare Gomorra ma anche 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 Auger Corrado Auger c'è il video di Serafino Massoni c'è il video di Serafino Massoni intitolato un video di dieci anni fa un video di Serafino Massoni di dieci anni fa intitolato Corrado Auger non copiare più di dieci anni fa c'è un video di Serafino Massoni intitolato Corrado Auger non copiare sì, sì perché Corrado Auger aveva copiato aveva scopiazzato per cui c'è un video di Serafino Massoni su Youtube di oltre dieci anni fa intitolato Corrado Auger non copiare però a me Corrado Auger non ha potuto chiedermi scusa di Serafino Massoni non me l'ha mica chiesto non me l'ha mica chiesto beh insomma cari amici morale della favola ora la cosa più urgente è comprare quest'opera capito? la cosa più urgente è comprare la stirpa del serpente la cosa più urgente è comprare la stirpa del serpente e poi vivere felici e contenti capito? ecco la bella ministra della pubblica istruzione Lucia Azzolina ha ragione ha ragione ha ragione parola di Serafino Massoni che è l'autore di questa opera pregiata vedete? è il catalogo della casa editrice Leonina guardate che bello guardate che bello guardate che bello bene cari amici bene cari amici la notizia della bella Lucia Azzolina che chiede le scuse ve la metto come l'inniere sotto di questo video ok ok ok